Siamo stati 4 anni molto intensi, siamo partiti dal campionato di promozione con il presidente Rossi dove la squadra rischiava di non iscriversi al campionato, abbiamo fatto una bella cavalcata dove all'ultima giornata siamo riusciti a vincere il campionato, siamo approdati in eccellenza e in eccellenza sono stati anche qui tre anni difficili perché consideriamo che siamo stati in una realtà di organizzarci del tutto, quindi praticamente abbiamo fatto un paio d'anni dove abbiamo puntato al campionato ma non ci siamo riusciti per vari motivi, fortunatamente in questo ultimo anno abbiamo riprogrammato di nuovo la squadra in un certo modo e devo dire che abbiamo avuto dei ottimi risultati, lo dimostra il fatto che abbiamo vinto il campionato a tre giornate dalla fine, quindi da parte nostra c'è stato un grande impegno in tutti questi anni perché abbiamo sposato un progetto e questo progetto ci dovrà portare sempre più in atto, quindi in questo momento ci cogliamo questa vittoria però devo dire che già da adesso stiamo lavorando per il prossimo anno. Io con i tifosi ho sempre avuto un ottimo rapporto, sono sempre stati il dodicesimo uomo in campo, ci hanno sempre creduto in tutti i momenti, sia nei momenti difficili sia in queste ultime giornate di campionato che ci ha portato in Serie D, quindi a loro dobbiamo essere sempre grati perché sono veramente il dodicesimo uomo in campo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti